ti ragazzi eccoci in questo nuovo video da xy burning light, xd capitale degnata, xd su barbara cacca, xd astro bim e oggi ci troviamo su 3kid non si leggerebbe 3kid vabbè premia un tasto qualsiasi w h k s ok ecci salute siamo partiti così che gioco è? dove siamo? che posto è questo? in cina? dove siamo? che posto è questo? bella risposta c'è un altro c'è un altro c'è spuglio bello amici e spuglio mamma mia quanto elegante quanto è sexy ok sappiamo che il nostro xd astro bimba ha paura dei c'è spuglio ha mai c'è spuglio altro c'è spuglio tutti c'è spuglio io d'oro ci siamo nella foresta e per caso altro c'è spuglio muro come errore? errore vaffanculo come è scritto un cazzo? cazzo era la vera hai fatto cagasse cazzo sono cagate su tutti ragazzi forse dovresti fuggire da qualcosa da cui non puoi fuggire che cazzo di parola? e questo è tutto noi ci vediamo alla prossima qui da ictis barbara cacca che era? che cos'era? la prossima volta non spingetemi scusa 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 si può correre? vaffanculo non si può correre figurati si è in testo gioco ah si può correre si eh premi shift ehm ma che dobbiamo fare? cazzo ma correre forse? io sto ancora pensando alla caga che mi so presa basta che non mi spingete di nuovo contro la sedia ci siamo qualcosa che addosso una chiave a casa ma che serve? basta che non mi schiacciate contro la sedia nella seconda volta vaffanculo un'altra ci siamo qualcosa addosso c'è un'altra e via ci sa un'altra chiave barca putrana mattina errore perché mi sono scansato non sembra ma per fortuna mi stavate spingendo un'altra volta una sedia nello sterno se voi due nella finite mi incazzo per 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 il suo lavoro per la paura ragazzi ma che si è un po' morto a vedere gli fanno il posto gioco non sappiamo neanche chi è qualcosa un tizio di simona donna raga la chiave la chiave prima dove l'abbiamo trovato in giro in giro in giro il baco non porto. l'abbiamo trovato ragamo a parte gli schizzi allora la chiave l'abbiamo trovato una chiave dove sta? in giro no mi pare questa parte qua non sta in un angolo di qua ok ora mi spanzo infatti non per niente ma semplicemente che mi hanno rinfilzato siamo in galè corriamo che bello ma stai chiave ma mica si spostano ste chiave si ma certo che si sposta questo cazzo no niente qua no forse qua no infatti abbiamo aperto una chiave ci dobbiamo trovare due ragazzi non posso andare in mezzo perché se vado giusto vaffanculo 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 oh quante volte ci vuoi ritrovare eh madonna ragazzi che caga questo gioco ragazzi chiaro che questo è il gioco più difficile ragazzi vado in mezzo cioè che cazzo era quella quella quel cerchio rosso eccola qua che era quel cerchio rosso oh ecco la andiamo andiamo ragazzi questa è la nostra unica possibilità dai 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 un'altra chiave quante cazzo sono tre chiavi non ce ne fotte non ce ne fotte andiamo avanti cazzo apri apri cinque chiavi o di più forse basta oh si è buggato ok bravo quante chiavi cinque ma come ci no che ce ne fotte che sei giù ce ne fotte c'è San mi credo no no oh non possiamo andare ma porca puttana ma cos'è sta barra verde qua sotto siamo in galera che c'è sta barra verde qua sotto in galera siamo ah è la barra della galera chiavi 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 dove siete ok me le chiavi in faccia siamo a due no 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 non mi piace no no non mi piace no no non voglio sapere non voglio sapere niente vi prego andiamo via no 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 via 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 Scusa Per un secondo mi sono visto Spostarsi verso i meccani Bene ragazzi Possiamo concludere qui Perché se no ti ti capisco da legnata La prossima cosa che si farà male Ma veramente Ma è assai Una bella di Allora Ora è una bella di saggezza sull'intelligenza artificiale Dei creatori dei giochi Tra l'altro non c'è manco le gambe Che bello Quante volte ci vuoi riprovare Per la saggezza Per la saggezza sui fatti che L'intelligenza artificiale Ognuno ha una propria intelligenza artificiale Aspetta fammi parlare Ognuno ha bisogno di Un'intelligenza per vivere Questa intelligenza è stata dotata Tramite programmi da programmatori Quindi possiamo dire che l'intelligenza Dei programmatori si trova nei loro giochi Insomma era quel coso che ci veniva addosso Infatti Ma l'abbiamo capito questo Eh certo Bene Noi ci vediamo alla prossima Qui da X di Subbarbaracacacca X di Capito Il Legnato X di Burning Light X di Astro Beam Commentate Iscrivetevi Seguite le perle di saggezza del nostro X di Burning Light E tanti annunci in su E noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao